Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è sabato 17 settembre 2022 e anche buon weekend, buon fine settimana, purtroppo non sarà un felice fine settimana per molti marchigiani che sono stati colpiti da una tragedia veramente grande, quella dell'alluvione, i giornali che stamattina ne parlano diffusamente, pensate che il giornale Il Resto del Carlino sulla cronaca nazionale dedica a questa vicenda altamente drammatica ben 15 pagine, 15 pagine piene di fotografie che dimostrano più che le parole, più che i titoli, l'entità del disastro che si è verificato. E noi cominciamo la nostra rassegna stampa questa mattina, poi ve ne darò notizia di quanto è accaduto con una rapida scorsa delle pagine dei quotidiani Il Resto del Carlino, il Corriere Adriatico. Cominciamo, dicevo, con l'almanacco e vediamo come oggi si festeggia, lo vediamo qui nella grafica, San Roberto Ballarmino. È un santo del XVI secolo, nato a Montepulciano in Toscana, vescovo di Capua, poi anche cardinale, padre spirituale di San Luigi. Aveva fatto parte della compagnia di Gesù. E per quanto riguarda le previsioni del tempo, vediamo che il tempo si mantiene perturbato. Questa mattina a Sufano il cielo era ancora sereno, ma una veramente platea intensa di nubi si allungava verso il mare, verso la Croazia, ma probabilmente dalla Croazia stava venendo in Italia. Ondata di forte maltempo, dice la previsione del tempo, tra mattino e pomeriggio su tutte le marche contemporanei e intense raffiche di vento. Il calo termico, le temperature si aggireranno tra i 15 e i 24 gradi, sensibilmente in una fascia minore rispetto ai giorni scorsi, il mare rimane fortemente agitato. Ebbene, detto questo, vediamo subito quanto vi ho preannunciato per il modo con cui i giornali riportano le notizie sull'alluvione. Il coraggio è il titolo a capare sulla prima pagina nazionale del resto del Carlino, il quotidiano nazionale. Vediamo qui quanto si riferisce pioggia eccezionale. Vediamo una donna coperta di fango che sta strizzando uno straccio col quale tenta di pulire quanto è rimasto nella sua casa che è stata veramente invasa dal fango, dalla melma. Apriamo le pagine. Tsunami di fango, la strage delle famiglie, sembrava l'apocalisse. L'alluvione mette in ginocchio le marche, una decina, le vittime, poi ci sono anche tre dispersi. Interi paesi spazzati via, tre dispersi, anche un piccolo di otto anni. Sono due i bambini che sono annoverati tra i dispersi. Vedete qui ecco le immagini significative di quanto accaduto. Un papà con la figlioletta in braccio mentre attorno a lui non c'è altro che distruzione, alberi caduti, fango dappertutto, insomma una pala con cui si cerca di iniziare subito i lavori di ripristino. E poi l'urlo disperato di Simone, madre e sorella inghiottite, tutto davanti a me un incubo. Si tratta di un 23enne che voleva portare via la propria auto, voleva salvare insomma la macchina dal fango. Ebbene è rimasto appeso a un tronco per due ore. Non so se le rivedrò più, ha detto, perché poi la mamma e la sorella sono state portate via dal fango. Un dolore senza fine. Bronella Chiù di 56 anni e Noemi Bartolucci di 17 anni sono appunto le vittime di questa vicenda. E poi ancora Mattia trascinato via a otto anni, a otto anni pensate, strappato dalle braccia di mamma. Lei si salva tenendosi a un ramo ma non ha potuto far nulla per evitare che il figlio fosse trascinato via dalla piena. Lo strazio della farmacista Silvia Mereo recuperata un chilometro di distanza. Il piccolo è tra i dispersi. E ancora Diego e le lacrime di Romina. Non è più riuscito a risalire spazzati via tutti i nostri sogni. Le vite veramente spezzate da questo dramma, da questo dolore. Una famiglia cancellata, padre e figlio negati nel garage, volevano recuperare l'auto. Tutto questo è accaduto praticamente in provincia di Ancona, ma per quanto riguarda la provincia di Pesaro ha sofferto in maniera drammatica Cantiano. Lì il temporale, la bomba d'acqua, si è abbattuta con grande intensità. Poi invece di scendere giù nella costa verso il Furlo, verso Fano, ha deviato verso Castellione di Suasa e quindi verso il Cesano dunque e verso la provincia di Ancona. Un appello disperato su Facebook. Correte, mio nonno in trappola, ma i soccorsi arrivano tardi e quando arrivano l'uomo, l'anziano, era deceduto. Aveva compiuto da poco 80 anni. E poi qui c'è una ricostruzione di come si è formato questo intenso ed eccezionale temporale. Il temporale autorigenerante, un gigante che porta distruzione. Vedete qui in questa grafica come il calore solare ha generato una corrente di aria calda che è salita verso gli strati alti dell'atmosfera. Qui il vapore acqueo ha raggiunto i livelli alti della troposfera e si è concentrato in enormi strati densi e carichi di queste dette celle. L'altezza è quella di 10-15 chilometri in alto appunto nel cielo. A questo punto però hanno avuto la loro azione i venti in quota. Il vento in alta quota ha spinto le masse nuvolose verso la terraferma. E qui si è creata la perturbazione grazie allo scontro con le masse d'aria più fredde. Quindi veramente qui si è generata quello che molti chiamano anche la tempesta perfetta. Una bomba d'acqua che ha fatto precipitare millimetri, ormai anche qualcosa di più, di acqua molto superiore di quanto magari se ne cade in un anno intero. E questo in pochissimo tempo, in pochi minuti. Ecco perché si è verificato tutto quanto abbiamo detto. Chiudiamo il resto del carlino con la pagina nazionale e apriamo invece quella con cronaca locale. Ma vediamo presso a poco le stesse immagini. Fango e distruzione come uno tsunami è il titolo che appare nella prima pagina del carlino, edizione di Pesaro. Dopo il diluvio, Cantiano devastata, apergola e cagli, ponti crollati e famiglie evacuate. Ovviamente il resto del carlino di Pesaro si concentra su quanto è avvenuto nella nostra provincia. Mentre a livello nazionale si parla diffusamente di quanto è avvenuto a Ostra, a Trecastelli, insomma a tutte quelle località della provincia di Ancona dove il temporale si è abbattuto con grande intensità. E vediamo anche qui le foto del disastro che si è verificato. macchine ribaltate, sono masse di rifiuti, di legname che si è addensato sotto i ponti e ha così spinto le acque a dilavare sulle sponde dei corsi d'acqua. Qui Elena Martina, il fruttivendolo, siamo a terra ma ripartiremo, è il titolo che appare con la rilevazione di una delle storie dei cantaniesi che si stanno rimboccando le maniche per non perdere nemmeno un minuto sulla ricostruzione. Vi faccio vedere anche un'immagine di quello che è avvenuto all'interno della chiesa di San Giovanni Battista a Cantiano in vasa da fango e acqua. Ovviamente tutte le panche sono andate distrutte, l'acqua è penetrata fino ad un'altezza di un metro e mezzo, tutti i banchi e gli inginocchiatoi sono un ammasso indistinto e credo che siano anche irrecuperabili. Lo aveva in braccio, la corrente lo ha travolto allo strazio della mamma per il piccolo Mattia. Guardate questo bambino che purtroppo è deceduto e qui la mamma Silvia Mereo, la mamma del piccolo Mattia Luconi di otto anni di cui abbiamo già parlato. E qua vediamo anche l'immagine di una persona sporca di fango, anche lui insieme ad altre, è il presidente della provincia Giuseppe Paolini. Peggio del Nevone, chiedo allo stato di calamità, ha detto il presidente della provincia in visita a Cantiano. La furia dell'acqua è un'altra cosa, siamo vicini agli abitanti del Catria. Ebbene, le Marche sono veramente una regione sfortunata per quanto riguarda gli eventi che ci sono verificati il terremoto, le alluvioni ricorrenti, le frane, insomma veramente un territorio che è da consolidare in maniera molto molto puntuale. Famiglie evacuate dai pompieri, case allagate, soccorsa la giovane mamma in attesa di un mimbo. Insomma veramente, poi qua abbiamo addirittura due pagine di fotografie. Vi ho detto che le immagini sono più espressive dei testi e dei titoli che appaiono oggi sui giornali. Vediamo qua persone che stanno attivando per liberare le strade, le piazze dal fango, dalla melma, dai tutti i rifiuti che si sono ammassati, poi portati via da una corrente impetuosa. L'arena di Cagli invasa dal fango, vista dal drone che ha sorvolato la situazione. Auto ribaltate e poi ancora residenti che guardano il ponte spezzato a Pergola, su fiume Cesano. Cantiano una cascata di fango e l'aiuto della protezione civile. E poi vediamo anche cemento spezzato dalla furia delle acque, il cemento di una struttura crollato a causa della pioggia. L'acqua veramente quando ci si mette costituisce una forza devastante che ha compiuto tutti questi disastri. Ebbene abbiamo dato molto spazio a quanto accaduto per il maltempo. Ne diamo ancora un altro pochino per vedere il Corriere Adriatico come riporta queste notizie. Alluvione strage senza allerta meteo. Ebbene gli operatori rimproverano coloro che avrebbero dovuto avvisare la popolazione. Ormai le allerta meteo si sprecano anche quando magari c'è solo un'avvisaglia, c'è solo un timore che accada, poi non accade. Questa volta è accaduta davvero ma nessun avviso era stato dato ai sindaci. E quindi i comuni sono stati colti di sorpresa. Ancora padre e figlio morti in garage, pianello di ostra a disperazione di Adriana. Non ci sono più Adriana e la moglie di Giuseppe Tisba e la madre appunto di Andrea. Non ci sono più come farò a vivere, ha dichiarato. Salvate mio nonno, ma Nando non ce la fa, l'ex ristoratore Olivi è rimasto bloccato nella taverna. Ci sono persone che per salvare le poche cose che avevano sono scese negli scantinati, nei semi interrati, ma purtroppo poi non sono più riusciti a risalire. Un evento imprevenibile, noi alziamo le braccia, la mancata allerta spiegata dal Centro Funzionale Multirischi. E qui vediamo il Presidente, il Presidente Acquaroli, che presiede una riunione nella Sala Operativa della Protezione Civile, concorcio appunto per vedere quanto è considerare quanto accaduto. Ed ora passiamo alla pagina di Fano, dove le aperture sia sul Corriere Adriatico che sul resto del Carlino sono dedicate a un cambio di giunta, un cambio di una persona di giunta, non della coalizione. Ebbene c'è un colpo di scena a Fano, l'assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Fabiola Tonelli si è dimessa, lo ha annunciato ieri, formalmente ancora non si è dimessa, ma lo farà tra pochissimi giorni. Addirittura lunedì prenderà a inizio la sua nuova attività lavorativa presso uno studio di architettura. Le motivazioni di queste dimissioni sono da considerarsi a livello personale. Fabiola Tonelli vuole costruirsi un futuro, pensa alla sua famiglia, è diventata mamma da poco, ebbene considera conclusa la sua avventura a livello amministrativo. È stata un'avventura che ha lasciato il segno nel bene e nel male. La Tonelli è stata contestata per certe risoluzioni che ha preso, per certi provvedimenti che ha assunto. In modo particolare vedi dei parcheggi, vedi le piste ciclabili. Come assessore alla viabilità ha assunto delle decisioni coraggiose, dobbiamo dire, però non tutte sono state gradite alla popolazione fanese, o almeno a una parte della popolazione fanese. Ebbene, ora però la sua avventura è finita. Chi sarà il successore o la successora? Ebbene, ancora il sindaco non ha deciso. Il Corriere Adriatico e il resto del Gallino fanno dei nomi. Si parla di cora fattori, se la decisione privilegerà una candidata o un candidato esterno, ma probabilmente sarà una donna, dato che le quote rosa in giunta si devono rispettare. Si sarà invece interno, si fa il nome di Barbara Brunori, che è già assunto delle deleghe che riguardano i lavori pubblici. Si pensi ai lavori che sono stati fatti alla passeggiata della Darsena Borghese, dei parchi della città, insomma, per altre iniziative. Il Carlino fa anche il nome di Edoardo Carboni, che è il capogruppo della forza politica a cui appartiene Fabio Latonelli, noi i giovani. Però, insomma, il Corriere Adriatico questo lo esclude, in quanto dice che è più probabile che sia una donna, ma siamo sempre nel campo delle supposizioni. La decisione dovrebbe comunicarla il sindaco dopo il 25 di settembre, ovvero dopo le elezioni di carattere politico. Le altre notizie. La statua di Don Achille, il prete buono, è stata inaugurata ieri davanti alla chiesa di San Leonardo a Fano, in via Cavor, una vera e propria folla per lui. È toccata alla presidente dell'associazione Amici di Don Achille, Giuseppina De Sio, a inaugurare la statua. C'era anche il vescovo Armando Trasarti, c'era il sindaco di Fano Massimo Seri, c'era il vicepresidente della giunta regionale Mirko Carloni. Insomma, è stata una figura carismatica Don Achille, una figura che dopo diversi anni della sua scomparsa ancora viene ricordata con grande emozione. Era un prete semplice, un prete che si curava degli umili, come umile era lui. Era un prete che dava le caramelle ai bambini. E questo è ancora un atto di cui si è persa l'importanza e si è aperta appunto l'umiltà di relazionarsi con il prossimo. Vediamo le altre notizie. Medicina generale, medicina generale da qualificare in studio gli esami di primo livello. Ieri si è tenuta una manifestazione in piazza 20 Settembre a Fano da parte dei medici di base, i quali invitano i responsabili della giunta regionale a riconsiderare il ruolo del medico di famiglia. Un medico di famiglia che può valorizzare il proprio stato di primo scalino di assistenza alla sanità. Perché? Perché lo studio medico del medico di famiglia può costituire veramente il primo presidio di assistenza sanitaria se verrà dotato di tutti quegli strumenti necessari per una cura di primo livello. Sono strumenti diagnostici che possono individuare, che possono convalidare le diagnosi che vengono fatte a livello di impressione da parte del medico e che quindi possono evitare tanti ricoveri che non sono molto giustificati oppure delle visite al pronto soccorso. E si possono soprattutto evitare lungaggini per quanto riguarda la mobilità passiva per fare degli esami. Uno deve andare magari a Urbino, a Pergola oppure addirittura lontano in altri ospedali delle Marche. Se questi esami si possono fare nello studio del medico di famiglia, pensate quanti progressi potrebbe effettuare la medicina di base. Ne parla il segretario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale Massimo Maggi che ieri è stato presente con una sua equipe che ha poi praticato questi esami diagnostici con due mezzi attrezzati a livello medico in piazza 20 Settembre a Fanoma. Lo hanno fatto anche in altre cittadine delle Marche come a Castelfidardo. Miss Italia è stata annullata la sfilata delle ragazze per quanto accaduto come tragedia in tutte le Marche. Al via oggi le prefinali a porte chiuse, sono state annullate le sfilate. Non si sa ancora se si farà qualcosa domani, comunque anche oggi. Tutte le manifestazioni di carattere pubblico erano uno spettacolo, quello che era stato allestito, tanto che c'è un palco ancora nella zona del Pincio dove avrebbe dovuto svolgersi uno spettacolo. Ebbene, è stato annullato. E meglio così considerare con silenzio quanto è avvenuto a lutto nelle Marche. La ventilazione meccanica all'asilo è alla scuola media. Ebbene, anche le scuole elementari e medie si attrezzano, si attrezzano a San Lorenzo in campo. Il nuovo anno scolastico inizia con 10 nuovi impianti. Una tecnologia prevista anche nella scuola primaria. Si tratta di 10 impianti di ventilazione meccanica controllata nei plessi della scuola dell'infanzia Nitaligi. Quattro dispositivi, uno per sezione e scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri. Sei dispositivi, uno per classe. Ebbene, anche la scuola di San Lorenzo in campo si attrezza. Giriamo la pagina, vediamo la pagina di Urbino. Eccola qua. C'è stata una manifestazione di protesta a Urbino, un flash mob. Una manifestazione più che di protesta per evidenziare quanto gli urbinati tengano a che la loro città rimanga ancora come gli ocisi indipendente. Flash mob davanti al Duomo. Vogliamo il nostro Vescovo. Tra i manifestanti anche il sindaco e il rettore dell'Università Foschi coinvolge Letta Foschi, Elisabetta Foschi. Ieri mattina sulle scale del Duomo di Urbino una cinquantina di persone si sono incontrate per richiedere un nuovo Vescovo per Urbino, Urbania e Sant'Angelo in vado. Si sa che dopo le dimissioni, dopo che Monsignor Lani è andato in pensione, Urbino dovrebbe passare sotto l'Episcopato di Pesaro. Ma ovviamente gli urbinati non ne vogliono. E guardate che non solo i cattolici si sono uniti a questa protesta, ma anche i laici. Perché il Vescovo non è solo una figura rappresentativa in senso religioso, è anche una figura istituzionale che può contare molto per il bene di una città. Pensate a Fano quanto aveva fatto il Vescovo del Signore ai tempi del passaggio della guerra nella città. Quanto aveva fatto a livello civile. Ed ora passiamo al resto del Carlino. Vediamo anche qui la pagina fanese. Si parla dell'assessore Fabiola Tonelli che si è dimessa. Il Sindaco Seri aspetterà che siano passate le elezioni politiche per nominare il successore. Lei, devo ragionare sul mio futuro, ha dichiarato. La Tonelli dovrebbe iniziare un periodo di prova in uno studio professionale lunedì prossimo. Poi deve sostenere il corso di abilitazione per architetti. Come dicevo, è diventata mamma da poco e quindi si dedica ora davanti più alla sua famiglia. Il primo cittadino non si sbilancia sulla nuova futura nomina. Qualcuno parla di un'altra donna per il rispetto della parità di genere. Ma non è neppure escluso un consigliere comunale come Edoardo Carboni, appunto, come avevo annunciato poco fa. E poi si parla della centrale elettrica di Carrara che è al centro di una contestazione per quanto riguarda l'attività rumorosa di alcuni impianti da parte dei residenti della frazione. Inquinamento acustico ora basta con la TR. Ci sono novità nella centrale elettrica. È arrivato anzi un nuovo dispositivo che dovrebbe garantire una vita più silenziosa nei paraggi dell'impianto. E poi tra poco si parlerà anche delle opere compensative che Terna si è dimostrata disposta a realizzare a compenso appunto dei problemi che crea la centrale elettrica a Carrara. Una centrale importante per il trasferimento dell'energia elettrica dal nord al centro Italia e quindi al sud. Un lungo articolo per quanto riguarda le selezioni di Miss Italia viene pubblicato oggi sul resto del Carlino. L'organizzazione si è mostrata profondamente scossa per la tragedia del lumifragio. Oggi nessun avvenimento con risvolti mediatici. Insomma ci sarà soltanto silenzio. Patrizia Mirigliani che è appunto la patron dell'iniziativa si è consultata con Comune e Regione. Attesa per cosa avverrà nella giornata di domani. Ancora non si è deciso. Forse forse si salverà qualcosa. Intanto il Teatro della Fortuna di Fano. apre il botteghino per fare gli abbonamenti. La capiena tornerà finalmente a pieno regime. Ecco costi e date. La capiena. Cosa vuol dire la capiena? Non si sa. Però insomma si sa che il teatro ha una bellissima stagione di prosa. E quindi chi vuole seguire questi spettacoli può fare l'abbonamento. Abbonamento è che sono sempre in crescita per quanto riguarda l'attività teatrale del Teatro della Fortuna. Che è sempre in crescita ed è sempre al centro di iniziative interessanti dal punto di vista culturale. Salute a chilometri zero con i medici di famiglia. Gli aderenti alla Federazione Italiana Medici di Medicina in generale hanno fatto esami ai cittadini. Eseguito elettrocardiogrammi. Dato consigli utili per la prevenzione. Sono stati fatti anche esami ECG, spirometria, misurazione e pressione arteriosa, determinazione dell'HBA, il quadro lipidico, il PCR eccetera eccetera. Sono quegli esami che monitorano un po' lo stato di salute con l'andare del tempo. Specialmente per quanto riguarda le persone anziane. E vediamo anche qualche notizia di sport. Oggi, dato che siamo nel weekend, vediamo sul Corriere Adriatico. Forse c'è un segreto. La Vista ha un sentimento in titola in prima pagina sullo sport. Mister Sassarini, l'allenatore della squadra, insiste soprattutto per spiegare il secondo posto della squadra. Anche il Fano, il Fano cambia il baby regione con Furlani junior. E' un provvedimento che è stato assunto in previsione della prossima partita. E questo è tutto per oggi. Massimo Foghetti vi saluto. Vi dà appuntamento alle 7 di lunedì prossimo. E per quanto riguarda le notizie al TG di questa sera alle ore 20.30. Questo è tutto. Ancora una buona giornata e un buon weekend. A risentirci. Ancora una buona giornata.